benvenuti alla resegna stampa di fano tv oggi è venerdì 24 febbraio 2017 cominciamo subito con il santo di oggi oggi la chiesa ricorda sante telberto re del kent così come ricorda per esempio il beato tommaso maria fusco che è nato a pagani in provincia di salerno nel 1831 il sole sorto alle 6 52 e tramonterà le 17 50 vediamo subito il tempo per la giornata di oggi anche perché dopo giornate serene arrivano le nuvole e arriverà anche la pioggia infatti avremo dei delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a questa sera quando addirittura queste questa pioggia assumerà carattere di rovescio ed insisteranno queste piogge maggiormente nei settori a nord della regione quindi la provincia di pesaro urbino con intensità che localmente sarà anche moderata il limite delle navicate inizialmente attorno ai 2000 metri per scendere in nottata nei settori a nord delle marche attorno ai mille metri le temperature sono in aumento nei valori minimi stazionari o lieve aumento nei valori massimi allora per quanto riguarda invece il vento oggi avremo raffiche fino a burrasca nelle zone interne e burrasca forte lungo il crinale appenninico intensità in attenuazione dal tardo pomeriggio poi rotteranno i venti rotteranno da est nord est nella nottata di quindi questa notte e in intensificazione lungo la costa centro settentrionale fino a vento moderato per la giornata di domani invece sabato ancora ancora precipitazioni al mattino rovesce temporali domani domani mattina sparsi lungo tutta la regione soprattutto a nord e poi via via verso sud con esaurimento nella mattinata ci saranno accumulate localmente moderate il limite delle noviticate sarà attorno ai mille metri nel settore a nord della regione mentre millequattro intorno ai millequattro a sud i venti continueranno a soffiare anche se poi diminuiranno nel pomeriggio di domani domenica invece che è l'ultima giornata di carnevale almeno qui a fano e vedete il tempo si si rasserena farà freddo durante la notte freddo con possibilità di gelate anche perché poi ci sarà la pioggia ci sarà ancora l'acqua diciamo il manto stradale bagnato con tutta la pioggia che avrà fatto in queste ore e quindi attenzione alle gelate però vedete il tempo sarà buono e poi insomma un peggioramento nella giornata di martedì probabile ma questo adesso lo vedremo iniziamo allora a leggere i giornali il resto del carlino la prima pagina è per gli imbrattatori quelli che vengono chiamati writers in sono finiti in trappola urbino la polizia ha scoperto e denunciato quattro studenti che avevano imbrattato palazzi del centro storico e altre città agivano anche sui treni e ora rischiano di pagare loro i costi del ripristino e questa è la notizia la foto principale del carlino così come in evidenza c'è la notizia dei permessi in zona a traffico limitato a pesaro permessi che sono scaduti e dunque a pesaro stanno facendo una vera e propria strage il comune pensa ad avvisare consentirebbe di evitare l'automobilista la raffica di multe che in questi casi come vedremo tra poco sono arrivate belle recensioni invece sul web basta pagare è la denuncia di un ristoratore ciles contattato da un'agenzia che gli propone addirittura un tarifario allora ripartiamo proprio da qua non è una novità però è brutto leggerlo davvero fa anche venire rabbia soprattutto se uno fa il ristoratore e ci mette tutta la passione del mondo ciles denuncia mi hanno chiesto soldi per avere recensioni positive sul web il ristoratore giorgio andrea ricci contattato pensate da un'agenzia e c'è anche un tarifario servono 120 euro per 10 commenti positivi 210 per averne 10 20 tutto tutti i dettagli sull'articolo che troverete a pagina 16 del resto del carlino di questa mattina il sede il sindaco di fanno massimo seri non vota il patto di piaggio parliamo di sanità e scattano le polemiche soprattutto da parte dei grillini che adesso lo accusano intanto i socialisti compagni di partito del sindaco dicono ecco che cosa chiediamo per il santa croce all'ospedale di fanno gambini sindaco di urbino sbaglia metodo la mia battaglia dice ancora seri è per avere la chirurgia h24 dicevamo dei tartassati a pesaro quelli che stanno ricevendo multe su multe pensate che una pensionata ne ha collezionato ne ha collezionate oltre 20 per gli ingressi nella zona traffico limitato di pesaro dove tra l'altro ci sono le telecamere con che leggono le targhe e quindi vedono subito se uno ha il permesso oppure no insomma c'è questa valanghia di multa di multe il comando ora non avvisa chi accede più volte pur avendo il pass valido l'ultima sentenza del giudice di pace però apre spiragli sulla sull'annullamento e anche qui va a prendere sempre su questo argomento la nipote a scuola sanzionato per la sosta un pensionato di 80 anni tornando di nuovo sulle pagine di fanno il carnevale carnevale freak concerto tributo in piazza e veglioni a gogo sono gli ultimi appuntamenti perché poi martedì prossimo c'è martedì grasso quindi si brucia il pupo in piazza mercoledì primo già sono le cenere quindi si entra in quaresima alle 18 nell'ex chiese di san leonardo tavola rotonda con manna e clappis che hanno scritto un libro interessantissimo poi anche tra i borghesi è tornata la voglia di mascherarsi dice l'esperto alberto berardi che osserva il carnevale sta tornando ad essere lo spettacolo che il popolo dà a se stesso non ci sono più spettatori e attori ma tutti sono protagonisti del divertimento andiamo adesso invece su una pagina bellissima del resto del carlino di questa mattina è l'intervista di solidea vitali rosati che secondo me andrebbe questa mattina letta in tutte le classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado questa mattina è l'intervista a una maestra che compie 102 candeline si chiama Alida Alida Rombaldoni in Berardi è una maestra che festeggia da una settimana perché ha ricevuto tanti auguri fiori visite eccetera eccetera e insegnava nella scuola elementare a Santa Veneranda insomma racconta una scuola che non c'è più ma una scuola che è raccontata talmente bene è scritto talmente bene che davvero fa venire le lacrime agli occhi una storia molto bella e lei dice questa maestra sono stata fortunatissima perché ho fatto 45 anni di scuola senza un giorno di permesso ho trovato non solo tutti gli alunni buoni ed educati è già qui tanto nelle frazioni quanto nella città ma anche le famiglie che mi hanno sempre dato carta bianca come se fosse la mamma di tutti questi alunni se non fosse stato così non sarei arrivata a 102 anni ma davvero vi invito a leggerlo ma non solo se ci fosse qualche insegnante all'ascolto prima di andare a scuola compri il giornale e lo legga così tanto per far capire come era bella la scuola di un tempo anche oggi ma insomma è cambiato davvero tutto allora pagina di Fano velocemente dai andiamo sulla pagina di Fano per il Carnevale al Via una settimana di feste, Serie ha dato la chiave della città alla presidente dell'ente carnevalesca fino a Marte di Grasso bambini incantati da fiabe e bolle di sapone in piazza si è ballato con le cuffie del Silent Party presentato anche il CD con 16 brani musicali e una canzone per il Carnevale il cui ricavato andrà ai terremotati andiamo sempre sul Corriere e la pagina di Fano dove in primo piano c'è la strada una delle strade più importanti la parallela Corso Matteotti ovvero Via Nolfi in abbandono viabilità e abbandono e viabilità disomogenea in Via Nolfi gli operatori ora rivendicano attenzione zona di pregio architettonico e turistico sulla tassa sui disabili è scontro, l'Udc e Progetto Fano attaccano di nuovo l'aginto comunale scelte assurde, l'assessore replica e solo una partecipazione al costo dei servizi in base all'Isee ma il punto focale per la minoranza è il documento del Ministero che escude i redditi familiari dalla pagina della Valle del Cesano invece la cronaca, tutta cronaca con il processo per la morte di Rossella Iatesta lo ricorderete, questa donna fu massacrata per gelosia dal marito Gino Ruggeri con una lunga serie di bastonate del capo ora c'è stato questo sconto di pena, non è stata riconosciuta la crudeltà la crudeltà in realtà c'è stata, titola il Corriere lo sconto di pena è una sconfitta, l'avvocato di parte civile sulla sentenza risarcimento di 600 mila euro confermato e poi al via il nuovo distretto turistico Valcesano in rete con 32 comuni nel patto dell'Appennino Umbro Marchigiano c'è Pergola, ci sono Pergola, San Lorenzo e Fratterosa da Senigallia invece le auto che sfrecciano a Marzocca tiro al bersaglio con il telelaser vigili appostati in via Garibaldi con la nuova apparecchiatura e ci sono dunque le prime multe high tech, le multe tecnologiche e poi da Fabriano, torniamo su quella notizia che vi abbiamo dato ieri mio figlio, mio figlio insultato e preso a botte non mangiava più per colpa dei bulli ecco, vedete la differenza basterebbe prendere questa pagina di Fabriano del Corriere con quella che abbiamo appena visto della maestra del resto del Carlino per farvi capire insomma come è cambiato tutto ragazzino umiliato in classe, lo sfogo del papà punizione softe, che tristezza i compagni in silenzio le ultime pagine velocemente da Urbino eccola qua, imbrattavano ancora la cronaca, la città ovunque, polizia incastra quattro writer, murales, tag denunciati studenti fuori sede perquisiti gli alloggi, trovati spray, foto e firme e poi il comune su Facebook dice la pagina non è nostra è una notizia che arriva dai colli al Metauro che prende le distanze dal social a Montemaggiore sale l'attesa invece per il ricorso e poi cinghiali a spasso vicino al centro abitato siamo sempre a Fossombrone l'avvistamento nella notte solo poche ore dopo l'incontro tra allevatori, sindaci e pieroni l'ultima pagina invece sempre del Corriere eccola qua da Fossombrone disfunzioni dell'emergenza parliamo sempre di sanità il caso arriva in Parlamento iniziativa della deputata Lara Ricciatti il ministro vigili sulla compatibilità della riforma mi fermo qui non c'è altro per la nostra rassegna stampa del mattino io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata segnatevi il numero per le segnalazioni ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia